L'apertura del Rettore Borghi e i movimenti antagonisti che hanno occupato l'edificio di Borgo Bosazza di proprietà dell'Ateneo farà certamente discutere e molto. Finito il tempo degli sgomberi, l'inversione di tendenza contiene in sé qualcosa di sorprendente, cioè la legittimazione di chi di fatto commette un abuso, ma anche la constatazione di una drammatica realtà. L'emergenza a casa, le povertà, la condizione dei migranti rappresentano un problema reale. Anche questo tema sarà al centro di Parma Europa domani sera in diretta alle 21. Una puntata in cui ci sarà però spazio soprattutto al bilancio politico di metà mandato dell'amministrazione comunale. Il sindaco Pizzarotti ha illustrato pochi giorni fa l'azione del suo governo, indicando in una quota del 47% gli obiettivi raggiunti rispetto ai programmi annunciati a inizio mandato. Un report che ha nuovamente diviso maggioranza e opposizione. I partiti di minoranza attuonano contro la Giunta su temi che hanno animato la cronaca degli ultimi mesi. Il caos scoppiato sulla rimodulazione dei servizi educativi, la vicenda dell'assistenza dei disabili a scuola, la raccolta serale dei rifiuti, il flop delle elezioni dei nuovi consiglieri di quartiere. Dall'opposizione anche l'accusa al Comune di non volere spendere il denaro incassato da tasse e tariffe, 26 milioni di euro che sono l'avanzo del bilancio 2014. I 5 Stelle spiegano tuttavia che il governo ha introdotto nuovi principi di contabilità per gli enti pubblici che portano ad inserire voci di bilancio alle quali però non corrispondono soldi disponibili da spendere. L'avanzo cosiddetto non vincolato e quindi spendibile è pari a zero. E la questione sarà certamente al centro del dibattito domani durante la discussione del bilancio consuntivo 2014 in Consiglio Comunale. Tutti i temi al centro di Parma Europa domani sera in diretta alle ore 21.